Il mercato degli affitti in Italia è letteralmente impazzito. I prezzi sono alle stelle, ci sono pochi immobili sul mercato ed è difficile far incontrare le esigenze dei proprietari di casa con quelle degli inquilini. Prima di cominciare però voglio presentarvi lo sponsor di questo video, che è Housing Anywhere, una piattaforma che consente proprio di far combaciare le esigenze di chi vuole affittare un immobile con quelle degli inquilini. Se diamo uno sguardo al mercato degli affitti, delle locazioni, notiamo che è in salita vertiginosa. Pochi anni fa si poteva affittare un immobile ad una media di 9 euro al metro quadro. Oggi siamo a quasi 12 euro al metro quadro e nei mesi passati è anche stata superata questa soglia. Quindi un aumento di oltre il 30% rispetto a pochi anni fa. Ma a cosa è dovuto questo andamento? Anche perché è completamente in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo nel mercato delle compravendite, dove i prezzi negli ultimi 10-15 anni sono in realtà calati del 30-40% e solo nell'ultimo biennio hanno cominciato a stabilizzarsi e in alcune situazioni anche a crescere. Come al solito in economia andiamo a interpellare la legge di domanda e offerta. Più persone ci sono che vogliono vivere in affitto, che vogliono affittare un immobile per viverci e meno sono i proprietari che sono disposti a concedere in locazione un'abitazione e più i prezzi saliranno. Ed è proprio quello che sta succedendo oggi nel mercato. Sempre più persone vogliono vivere in affitto e sempre meno proprietari vogliono concedere in affitto il proprio immobile. Ma perché? Ci sono quattro ragioni principali che andremo a sviscerare nel video di oggi. La prima sono sicuramente i problemi normativi che ci sono oggi in Italia. Considerate che un proprietario quando affitta un immobile ha l'incognita, ha la paura di sapere se quell'inquilino pagherà, pagherà con regolarità oppure creerà problemi oppure distruggerà l'appartamento. In media infatti in Italia per sfrattare un inquilino moroso ci vogliono dai 9 ai 12 mesi e in questo tempo l'immobile rimane occupato, di solito in condizioni di scarsa manutenzione e il proprietario deve continuare a pagare le tasse come se stesse affittando quell'immobile e in più pagare le spese per l'avvocato che deve seguire la pratica di sfratto. Quindi un inquilino moroso per un proprietario di casa è un pericolo enorme e le persone hanno paura di questo perché quel processo è lungo e non è immediato e quindi si trovano spesso invischiate in questa procedura lunga e laboriosa. Diventa quindi essenziale per i proprietari degli immobili soprattutto in affitti a medio e lungo termine conoscere bene le caratteristiche degli inquilini che hanno in casa e chiedere le dovute garanzie. Una delle funzioni di Housing Anywhere è infatti il poter selezionare gli inquilini direttamente dalla piattaforma e chiedere tutti i documenti necessari a far sì che ci sentiamo tranquilli di poter affittare il nostro immobile. Si possono anche impostare dei filtri direttamente nella piattaforma per selezionare il target che vogliamo andare a colpire con il nostro immobile, quindi la tipologia di affitto che si vuole fare, la tipologia di inquilino, quali documenti vogliamo, addirittura in base alla tipologia di attività lavorativa svolta. La piattaforma può essere utilizzata direttamente dai proprietari senza intermediazione di un'agenzia oppure dai property manager. Questo consente un forte risparmio perché non si deve pagare l'agenzia immobiliare, purtroppo per me. Ma il suo vero potenziale Housing Anywhere secondo me lo sviluppa sugli affitti a studenti. Infatti questa piattaforma è partner di oltre 150 università nel mondo e tantissime anche in Italia e quindi le università consigliano di utilizzare Housing Anywhere ai propri studenti per cercare una camera o un alloggio in affitto per poter studiare. E questo si traduce in un'enorme visibilità e in un'enorme affidabilità anche agli occhi degli studenti. Per esempio facendo alcune ricerche prima di fare questo video ho scoperto che l'università di Pisa, che è la più vicina a dove mi trovo in questo momento, è partner di Housing Anywhere. Quindi ha proprio una pagina sul suo sito dove consiglia agli studenti di utilizzare Housing Anywhere per cercare un alloggio. Oltre a questo ci sono un sacco di strumenti che magari le normali piattaforme tipo Immobiliare.it o Idealista non hanno. Per esempio il calendario dove si possono settare le disponibilità dell'appartamento, essenziale se si fanno affitti a medio termine, quindi di qualche mese. Quindi si può bloccare l'appartamento per tre o quattro mesi, magari c'è uno studente dentro, e comunque continuare a prendere richieste per quando l'appartamento sarà libero. Quindi non dobbiamo aspettare che l'appartamento sarà vuoto per poter ricevere delle richieste. E in questo modo si può aumentare sensibilmente l'occupazione dell'appartamento, e quindi i guadagni. Per approfondire come funziona Housing Anywhere ti consiglio di andare in descrizione a questo video dove trovi il link diretto al sito internet dove puoi vedere tutte le informazioni. Ma torniamo a noi. Oltre al rischio normativo ci sono altre cose da prendere in considerazione. Per esempio, se abbiamo un affitto da 700 euro al mese e l'inflazione come è stato ad ottobre 2022 è all'11,8%, vuol dire che posso aumentare il canone di 82,6 euro, ovvero 83 euro, portando il canone a 783 euro. Questo meccanismo, riportato negli anni, ha portato ad un aumento dei canoni di locazione. Il terzo punto sono gli affitti brevi o turistici. Sempre più proprietari si indirizzano a questo tipo di mercato per alcune ragioni fondamentali. La prima sono i guadagni più elevati. Ovviamente affittando a breve termine si può ricavare un prezzo maggiore a notte anche se poi abbiamo tutta una serie di costi di gestione e le utenze, la biancheria, le pulizie che vanno a diminuire questo margine. Ma comunque di solito con gli affitti brevi si guadagna un 10-15% in più rispetto ad un affitto tradizionale. Oltre a questo c'è il vantaggio che l'immobile comunque è sempre disponibile. Con un 4 più 4 si blocca praticamente l'immobile per 8 anni. Mentre con gli affitti brevi in qualsiasi momento l'immobile ci dovesse servire basta bloccare le prenotazioni e l'immobile tornerà nella nostra disponibilità e potremmo usufruirne magari per noi o per i parenti. Quindi maggiori guadagni, più sicurezza perché non c'è quasi mai il rischio di sfratto con gli affitti brevi e la disponibilità dell'immobile in qualsiasi momento rendono gli affitti brevi molto più appetibili per i proprietari di un immobile. I primi tre fattori hanno fatto sì che diminuissero gli immobili sul mercato. Quest'ultimo fattore che andiamo ad analizzare ha fatto sì invece che siano aumentate le persone che vogliono vivere in affitto, quindi che vogliono prendere in locazione ed essere degli inquilini. E una parte di responsabilità è dei tassi di interesse sui mutui. Prendere un mutuo negli ultimi mesi, lo sappiamo, è diventato molto più costoso perché i tassi di interesse sono aumentati. In più le banche hanno stretto le proprie reti, quindi non fanno più passare tutte le pratiche. È diventato più difficile ottenere un finanziamento dalla banca. Quindi per questi due motivi tante persone si orientano a vivere in affitto perché è meno oneroso e perché è l'unica cosa che si possono permettere. Questo mix ha creato la situazione di mercato in cui ci troviamo oggi. Ma veniamo alla domanda fondamentale di questo video. Oggi è conveniente affittare un immobile? Se diamo un'occhiata a questo grafico estrapolato sempre da immobiliare.it che riporta l'andamento dei prezzi richiesti sulla piattaforma ci accorgiamo che i prezzi sono ancora molto più bassi rispetto a quello che erano pochi anni fa. Ovviamente si parla sempre di media nazionale. Ci sono città che sono in controtendenza, quindi hanno già dei prezzi molto più alti. Prendiamo per esempio Milano, Firenze o Roma. Questo significa che se abbiamo un immobile di proprietà in questo momento può essere conveniente scegliere di affittare, guadagnare qualcosa, mentre il mercato magari si riporta su livelli un po' più alti. Una tendenza che in realtà è già cominciata perché se andiamo di nuovo a vedere il grafico vediamo che dopo il Covid i prezzi hanno cominciato a salire. A maggior ragione se avete comprato un immobile 10-15 anni fa nella bolla di mercato non vi conviene in questo momento spingere per vendere perché ricaverete un prezzo molto più basso di quello che avete pagato pochi anni fa. Vi conviene affittare, ricavare qualcosa dal vostro immobile, quindi anche dei bei soldi perché abbiamo visto che il mercato degli affitti è salito, e attendere. Ovviamente questo consiglio è per chi ha degli immobili da investimento, degli immobili di cui non ha bisogno e bisogna sempre tenere in considerazione che la vendita di un immobile non è solo legata alle esigenze di mercato o alla convenienza o meno. Ci potrebbe essere anche la situazione in cui dovete vendere perché dovete comprare un immobile più grande per la vostra famiglia, oppure dovete realizzare un altro progetto, oppure è un immobile da ristrutturare e non potete o non volete ristrutturarlo. Quindi le esigenze possono essere tantissime e è difficile dire è conveniente o non è conveniente in generale. Però se il vostro immobile è un investimento, in questo caso vi posso dire tenetelo in affitto per ora, pensate a vendere fra qualche anno. Ovviamente dovete sempre fare attenzione al calcolo costo-opportunità, quindi il capitale che ho immobilizzato in quell'immobile, quanto mi potrebbe rendere in un altro investimento, magari in un altro investimento immobiliare, potrebbe rendermi di più di quello che sta facendo in questo momento, oppure di meno. Prendiamo per esempio un immobile che vale 100.000 euro. Se questo immobile mi rende 6.000 euro all'anno, quindi i fatidici 500 euro al mese, mi dà una rendita lorda del 6%. Se gli stessi 100.000 euro posso investirli e comprare un altro immobile che mi dà una rendita di 7.000 euro all'anno, quindi un po' di più dei 6.000 che ricavavo con l'immobile che ho in questo momento di proprietà, allora a quel punto mi conviene vendere quell'immobile e comprarne un altro che mi dà una rendita più elevata. Ma tutto questo potrà essere argomento di un altro video. Per adesso ti ricordo di mettere mi piace, condividere questo video e iscriverti al canale, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!